Dopo il caso dell'imprenditore Vicentino la scorsa settimana, la Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito una confisca di beni nei confronti di un imprenditore nel settore dei rifiuti, di 70 anni, residente in provincia di Venezia al confine con il Padovano. Ha commesso dei gravi reati nel tempo, per circa un ventennio, sempre nel settore dei rifiuti, che l'hanno fatto qualificare come soggetto socialmente pericoloso, a cui è stata applicata anche in questo caso la normativa antimafia e pertanto sono stati confiscati gli immobili per i quali non c'erano copertura mediante redditi illeciti. Parliamo in totale di otto immobili per un valore complessivo di un milione e mezzo di euro, che anzi dovranno essere tre milioni di euro, ma tre capannoni non sono stati confiscati perché nel frattempo erano stati pignorati dalle banche. Il provvedimento riguarda otto immobili già oggetto di un sequestro preventivo, ora definitivo, eseguito lo scorso novembre dai militari del GICO del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Venezia, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia. Il settantenne non era nuovo a questi reati. I trasporti legali, stoccaggio illegale, aveva un'attività economica nel settore dei rifiuti, ma gestendo questa attività economica ha commesso una serie reiterata di reati nel tempo per il quale ha avuto anche delle misure cautelari personali e ha avuto anche delle condanne in ambito penale. Indagini complesse, quelle delle fiamme gialle, che hanno richiesto l'analisi di numerosi passaggi proprietari del patrimonio dell'uomo e il loro conferimento in un fondo patrimoniale, il tutto per schermare la disponibilità dei beni. Questo ha fatto sì che transitasse appunto nella schiera dei soggetti socialmente pericolosi per i quali applicabile la normativa antimafia.